Sicuramente il gol è stata la fotografia della reazione che abbiamo avuto come squadra e credo sia la cosa più importante. Poi al di là di chi ha fatto il gol in questo momento serviva a dare un segnale. Secondo me l'abbiamo dato già dal primo minuto perché abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Poi la partita si era messa per sfortuna così, però ripeto siamo stati bravi a reagire in maniera forte da squadra con vinti dei propri mezzi e secondo me potevamo anche poi vincerla perché abbiamo avuto diverse occasioni nel finale. Sicuramente abbiamo attraversato un momento un po' difficile, ci sono stati tanti cambi nella rosa, non devono essere degli alibi per noi perché comunque abbiamo un valore alto della rosa a livello qualitativo ma ci sono anche degli ottimi uomini, grandi ragazzi che si mettono a disposizione. Quindi diciamo che questa è la partita che fa riprendere il nostro cammino fino alla fine del campionato. Sono tutte partite importantissime e poi alla fine vediamo dove possiamo arrivare. Sicuramente noi abbiamo sempre quell'obiettivo in testa quindi non ci facciamo influenzare da fattori esterni. Siamo un bellissimo gruppo, oggi ripeto l'abbiamo dimostrato quindi dobbiamo solamente continuare così. Per me è stata una scelta che comunque se non fosse stato Arezzo molto probabilmente non sarei sceso di categoria. Il gol è importante perché sono un attaccante, il gol è importante perché aiuta la squadra, dà morale sia a me che a tutto l'ambiente. Quindi sono a disposizione dell'allenatore della squadra per fare bene, per riportare l'Arezzo dove merita. Sono sicuro che con questa squadra possiamo toglierci delle soddisfazioni.